e ciao a tutti ragazzi al vostro mascarato rieccoci anche oggi sul mio canale con una nuova figure sempre data gentilmente in prestito dal mio negozio di fiducia resolution shop a palermo oggi è un'altra neca la figure che andremo ad unboxare ma più che figure come potete vedere si tratta di un creator pack inerente al film alien 3 guardate subito come si presenta la scatola con le nostre creature in evidenza qui sulla parte frontale col blister trasparente già in come si può dire subito a prima chitto che vediamo andiamo con i laterali ovviamente la scritta li entra e poi le fotografie stampate dei vari componenti del pack dietro oltre ad avere le classiche fotografie delle delle creature all'interno del pacco ovviamente ci illustrano i nomi che sono bambi barster queen facehugger e poi abbiamo queen barster è ovviamente rottweiler che ha come accessorio la testa danneggiata l'altro lato invece semplicemente con la scritta potete vedere alien 3 e creature pack ovviamente parliamo sempre di action figure della neca sopra sempre alien 3 creature pack ovviamente le varie attenzioni e le classiche scritte con la marca neca andiamo ad aprire subito il nostro pack di alien solo un sigillo messo sopra ecco qua andiamo ad unboxare questo pack ragazzi alien è famosissimo come potete vedere ecco quel blister ci sono le quattro creature che sarebbero tre più un cane ovviamente è qualche piccolo accessorio potete vedere qua ecco guardate l'osso piccolino non so se si riesce a mettere a fuoco ecco eccolo la andiamo subito da ad aprire tutto ok si parte con queen vediamo se riusciamo a togliere questa fascetta diciamo elastica ok prima tolta si possiamo uscire il pezzo forte delle pac secondo me il più terrificante tra le creature creature all'interno di questo pack eccola qui l'alien per eccellenza diciamo andiamo anche ad estrarre le altre creature dal pack qui abbiamo face hugger ecco anche qui eccolo ora ovviamente ve li farò vedere tutti meglio nel dettaglio ragazzi per ora li sto semplicemente unboxando e togliendo dal blister ecco anche l'altro sono tutti articolati ovviamente hanno tutti gli snodi ecco qui poi abbiamo il nostro rottweiler vediamo se riusciamo a togliere prima i gancetti da dietro si ci siamo riusciti ecco qua questo rottweiler eccolo con la testa eccola qua la seconda testa quella danneggiata eccola eccola qua poi abbiamo questo piccolo gadget che ragazzi vedo di uscirlo è semplicemente un piccolo ossicino partiamo subito come dicevamo a farvi vedere le nostre creature di questo grandissimo pack della neca ragazzi che vanno a raffigurare i personaggi di alien 3 partiamo con il nostro bambi sembra quasi il personaggio del film della disney cioè vedere gli snodi che possiede come potete vedere si alzano le zampe anteriori così queste sono le pieghe che può fare ruotano anche le zampette piccole davanti hanno dei devi snodi ragazzi non forse ovviamente però lo snodo c'è come potete vedere ruota anche anche quelle posteriori si alzano questo livello circa no sempre i snodi anche qui vedete ste pieghe anche loro rotano molto articolati devo dire non me l'aspettavo la prima visione diciamo esterna del pack ecco qui anche questo ruota ovviamente la coda invece fissa non ha nessun tipo di rotazione la testa con il busto anche loro hanno un minimo di posabilità come potete vedere ragazzi sono sempre negato per metterle in posizione perdonatemi ma ecco qui il nostro bambi barster ovviamente ragazzi rottweiler il cane eccolo sono fatte bene ragazzi magari non si noterà dal video ma sono davvero ben realizzate può girare la testa ovviamente che è intercambiabile con quella dicevamo prima danneggiata eccolo qua anche la faccia ben realizzata vi rifaccio vedere quella danneggiata eccolo qua anche lui fortunatamente lui sta in piedi da solo come potete vedere non c'è bisogno di svenarsi per metterle in posizione qua abbiamo il nostro facehugger queen eccolo qua faccio vedere anche lui nel dettaglio il nostro ragno direi lui non ha snodi quel sotto la coda ragazzi questo è dettagliatissimo è come l'altro alien ha una colorazione lucida per i vari particolari anche lui lo piazziamo qui in basso facciamo l'ultimo che secondo me ragazzi è il più terrificante eccolo qua il nostro queen barster anche lui ha le zampe anteriori abbastanza snodate che girano e piegano vedete la testa che si muove e ruota anche le zampine sotto riescono a muoversi come potete vedere e a ruotare quelle posteriori hanno sempre la classica alzata come l'altro alien la girata in avanti così si fermano dietro idem no quella l'altra invece ruota abbastanza agevolmente sempre le piccole pieghe che hanno qui e le varie rotazioni sono molto articolati ma ragazzi sono davvero delicati mi spavento a romperli detto con sincerità per questo non forzo più di tanto gli snodi vedete vedere ruota tutto anche per lui la coda è fissa non credo di riuscire a metterlo fermo in posa a lui ragazzi ci provo ci proviamo ma la vedo dura ecco qua anche lui difatti come vi dicevo non riesco a farlo stare agevolmente in piedi niente ragazzi non riesco perdonatemi non riesco a farlo stare in piedi meglio di così ve le rinquadro nel dettaglio tutte abbiamo queen barster eccolo qua queen facehugger eccolo rottweiler con mettiamo a fuoco con la seconda testa come potete vedere dietro quella danneggiata come gadget e poi abbiamo bambi barster eccolo qua davvero fatti bene ragazzi io non sono un fan di alien come avrete capito però ammetto che sono fatti davvero bene questa recensione ritorniamo alla base lui come potete vedere mi è ricascato cerco di rimetterlo in posa ma davvero un'impresa ragazzi anche per questa volta è tutto da mascarato ai nostri alien del pack della neca se vi è piaciuto il video lasciate un like ovviamente è sotto in descrizione c'è sempre il link per la mia pagina facebook per qualsiasi info potete contattarmi per le figure iscrivetevi sempre al mio canale e attivate la campanella ragazzi dai nostri alien e di nuovo da mascarato è tutto alla prossima video recensione grazie